come sgonfiare la pancia in un solo mese ciao amici chi non vorrebbe sgonfiare la pancia bene e in fretta e vedere l'addome piatto e liscio già sgonfiarla è un miracolo poi in fretta ma sei sicura ho dei trucchetti interessanti soprattutto in estate ma anche durante l'anno tutti desideriamo sgonfiare la pancia e calare il girovita come spiego sempre nelle mie consulenze del sistema di salute naturale la colpa principale della pancia gonfia è il cibo nello specifico la scelta degli alimenti e come li abbiniamo a tavola vediamo allora insieme un menù settimanale per snellire l'addome in un solo mese se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine c'è un regalino per voi colazione iniziare la giornata con un bicchiere di acqua tiepida e limone idrata depura e attiva subito l'intestino io lo dico solo da 25 anni sicura che non fa effetto placebo ma ci sono le testimonianze di migliaia di persone a colazione i cibi che gonfiano di più sono i carboidratti raffinati e gli zuccheri per certe persone anche la frutta e i succhi di frutta soprattutto freddi e se bevuti in fretta nemico numero uno del gonfiore e dell'intestino è il latte vaccino ancora peggio se abbinato al caffè meglio optare per latte vegetale o tisane che accompagnano musli o fiocchi integrali oppure pane o fette integrali con marmellata senza zuccheri aggiunti bene anche la colazione salata magari con il tosta all'avocado che ho descritto in questo video per avere tante idee golose per la colazione potete guardare i video che trovate in questa raccolta pranzo a pranzo abbinare cereali e verdure cotte o proteine e verdure cotte ma non cereali e proteine da evitare i formaggi come la mozzarella che non sono per niente leggeri per l'intestino anche a pranzo attenzione alla frutta che potrebbe fermentare e quindi gonfiare cena se vi piace l'idea di un piatto unico goloso leggero potete fare la mia insalatona risolutiva che trovate in questo video come portata principale di nuovo abbinare cereali e verdure cotte o proteine e verdure cotte per le proteine meglio le carni bianche il pesce i legumi come ceci o lenticchie che gonfiano meno e ovviamente tofu e seitan e gli spuntini antigonfiore anche quelli per gli spuntini bene la frutta fresca ma solo di un tipo per volta oppure la frutta secca ma non più di una manciata in descrizione trovate i link ai miei ebook con tante ricette sane e amiche della pancia piatta se seguite questo stile di alimentazione il gonfiore se ne andrà presto già in quattro settimane per chi vuole un approccio personalizzato o a esigenze particolari è possibile contattarmi per richiedere un coaching professionale del mio sistema di salute naturale link qui sotto per chi vuole dimagrire senza dieta sto preparando un programma unico online che dura tre mesi continuate a seguirmi e restate aggiornati nei prossimi video e in descrizione sotto questo video bene amici oggi abbiamo visto come snellire l'addome in quattro settimane commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche ed ecco il regalino di oggi la checklist con i consigli per un menù antigonfiore mangia consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di simona vignali iscriviti al canale